Un altro rumor, sempre sulla Roma per chiudere il discorso Roma Belotti, si parla del Gallo Belotti a fare il vice di Abram alla Roma Per me non sarà niente più che di un vice E quanti gol ti aspetti da uno come il Gallo? In tutta la stagione, in tutte le competizioni? In tutte le competizioni magari una decina Alla murata l'anno scorso? Trovo che nelle fasi iniziali dell'Europa League troverà spazio Riuscirà a giocare un po' con le squadre minori E lì potrà mostrare il suo valore Penso però che in Serie A Abram sia la punta titolare Quello incaricato di segnare parecchio Ed è inamovibile questa cosa Inamovibile Però sai meglio di me che ormai bisogna avere delle riserve Che valgano quasi quanti titolari per uscire a fare un'ottima stagione Assolutamente, perché giocano tantissime partite E Belotti secondo me farà molto bene alla Roma Sì Però al fantacalcio non ci punterei Nemmeno se lo paghi poco poco? Quanto è poco poco? 30 Troppo Troppo? Lo pagherei Azzardato 20 Proprio a esagerare Proprio a esagerare